Non è mai venuta così bene, vuol dire che le prove servono, ma siamo ancora in tempo. Tra l'altro, mi scusi, lei è semplicemente l'affettuario, cioè quello che ci affitta la sala, perché il proprietario dei muri è un appassionato di musica, di buona musica, ed è qui che vuole suonare con noi, quindi lei se ne può anche andare, perché Ubi Maior, minor Cessand, perché noi abbiamo la possibilità di duettare con il Puma di Lambrate, Fabio Greve, il proprietario dei muri della sala prova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fabio Breve, il Puma di Lambrate, un'autorità cittadina, in campo di blues, ma anche di tutti gli altri generi, da alcuni detto il Pullman di Lambrate, peraltro. Siete bravissimi. Siamo migliorati, tre mesi di affitto gratis alla sala prova. Faremo solo prove, faremo solo prove. Però bisogna vedere se vi meritate veramente, perché a volte qualcuno dice sì, però loro sono un po' morsi. Chi l'ha detto, scusate? Lascia perdere. Allora, maestro, vediamo un po' cosa sappiamo fare. Senti. L'ha detto Rocco Tanica! Forse è Rocco Tanica. Ci sta mettendo la prova. Lo conosco. Ci sta mettendo la prova. Ci sta mettendo la prova. E' Rocco Tanica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.